Antonio Cassano, l'operazione è stata eseguita alle 7.30, durata all'incirca una mezz'ora, 35 minuti. Questo è il comunicato ufficiale diramato dalla società Milan al termine dell'operazione che è stata eseguita ed è andata a buon fine. AC Milan comunica che questa mattina Antonio Cassano è stato sottoposto a procedura di cardiologia interventistica di chiusura del foramo Vale Pervio presso l'unità di cardiologia del Policlinico di Milano. La procedura è stata eseguita con successo da un'equipe multispecialistica composta fra gli altri dal professor Mario Carminati, direttore della cardiologia pediatrica e cardiopatie congenite dell'adulto dell'IRCCS Policlinico San Donato, dal dottor Gian Battista Danzi, direttore UO di cardiologia e UCC del Policlinico di Milano e alla presenza dei medici del reparto di neurologia del Policlinico di Milano con l'anno in cura il professor Nereo Brisoline, direttore UO Neurogia, il dottor Ivan Torrente, ricercatore neurologo dell'Università di Milano e del responsabile sanitario del club dottor Rodolfo Tavana.